Salve a tutti, questo è il primo video tutorial dedicato a Gestotel, un gestionale alberghiero open source Innanzitutto andiamo a vedere le informazioni relative a questo software Gestotel attualmente è arrivato alla versione 0.4.1 La licenza è una licenza GPL, quindi questo significa che chiunque può scaricare il software in maniera gratuita Può modificare il codice sorgente e ridistribuirlo sempre sotto licenza GPL Qui possiamo andare a leggere il testo della licenza Gli autori di questo gestionale alberghiero sono Signori Sergio Fea, Giulio Bellezza e Stefano Cortelli, Emilio Qui troviamo gli altri autori per quanto riguarda le traduzioni in inglese, in lingua francese, in tedesco e in spagnolo Gli autori per quanto riguarda la grafica del nostro gestionale alberghiero e gli autori per il testing di questo software Durante il primo avvio di Gestotel Tutte le tipologie di camere Noi abbiamo settato un numero di camera pari a 15 E sono settate tutte in tipologia di camera singola Ma noi ovviamente abbiamo l'esigenza di poter assegnare sia un nome a una nostra camera Quindi di non avere semplicemente una sequenza numerica delle nostre camere Ma assegnare anche un nome E poter gestire le nostre tipologie di camere Quindi singola, doppia, tripla, quattropla eccetera Per poter fare questo Quindi per poter creare diverse tipologie di camere Andiamo dal menu in alto camere E clicchiamo su tipologia delle camere Quindi inizialmente Noi abbiamo queste tipologie di camere Ma possiamo eliminarle Quindi cancellare diverse tipologie di camere Oppure crearne delle nuove Quindi per creare una nuova camera Una nuova tipologia di camera Assegniamo il nome Possiamo anche dare un colore Alla nostra tipologia E cliccare su ok E fare salvatipo In questo caso è stata creata una nuova tipologia delle camere Quindi per tutte le tipologie di camere Noi possiamo assegnare un non colore diverso Facendo poi salva su tipo Doppia, assegniamo quest'altro colore Ok, salvatipo Tripla, assegniamo quest'altro colore Salvatipo Così per tutte le altre Vediamo che in questo caso Per ogni tipologia di camere È stato assegnato un colore Differente Per assegnare invece dei nomi Alle camere Possiamo cliccare Vedete Con il tasto sinistro del nostro mouse È assegnare un nuovo nome Rosa Tipo di camera Singola Salva Vediamo che È stata creata Questa camera con questo nome Nome della camera Margherita Assegniamo una tipologia di camera Doppia Salva E così per tutte le altre E così per tutte le altre Molte strutture ricettive Hanno la bruttissima abitudine Di effettuare delle prenotazioni In overbooking Gestotel permette di creare Delle camere fittizie Utilizzabile proprio per questo scopo Quando si sarà riempito Il nostro planning Quindi non avremo A disposizione più nessuna camera Da poter prenotare Quindi eventuali nuove prenotazioni In eccesso Potranno essere effettuate Nelle camere di overbooking Attualmente Sono state create Queste Camere di overbooking Per poter creare Appunto le camere in overbooking Andiamo nel menu camere E clicchiamo su camere in overbooking Quindi Noi Attualmente io ho creato Queste Cinque camere di overbooking Quindi per poter creare Una nuova camera In overbooking Inseriamo Il numero Di camere E la tipologia di camere Overbooking Che vogliamo creare Quindi in questo caso Stiamo creando Stiamo aggiungendo Due camere in overbooking Per quanto riguarda La tipologia suite Facciamo aggiungi Clicchiamo su Sì E vediamo che sono state Aggiunte Due nuove camere Di overbooking La 6 E la 7 Qui in alto A sinistra Abbiamo il nostro Calendario Ogni volta che si avvia Gestotel Il nostro calendario È posizionato Alla data odierna In questo caso Oggi è Giovedì 29 settembre 2011 E queste due linee rosse Distingono appunto La data odierna Degli altri giorni Abbiamo la possibilità Di spostarci Nel nostro Planning Di indietro Di un giorno Oppure avanti Di un giorno Spostarci Di sette giorni Sia avanzare Di sette giorni Che andare indietro Di una settimana Oppure spostarci Per esempio Di un anno Precedenze Mesi precedenti Eccetera Cliccando su quest'altro Tasto Ci posizioniamo Sempre Alla data Odierna Alla data